Per arredare la vostra casa, si deve spendere bene, si può spendere poco. Come? Vediamo le ultime notizie da nostro inviato. Salve amici, sono Dino il Comodino del mobilificio Miglietta. Ma che cos'è il mobilificio Miglietta? Che cosa ci propone? Noi del mobilificio Miglietta vi offriamo il sistema più facile, più veloce e sicuro per risparmiare. Sì, questo è il mobilificio Miglietta, un modo nuovo per spendere meno e spendere meglio. Sapete perché? Perché dalla fabbrica arriviamo direttamente a casa vostra, senza nessun intermediario. Giudicate voi se non è proprio un gran risparmio. Direi proprio di sì. Guardate i prezzi. Una cucina componibile, in laminato, completa di elettrodomestici, costa 1.850.000 lire. Lo ripeto, completa di elettrodomestici, per sole 1.850.000 lire. Sì, avete capito bene. E guardate che rifiniture, che praticità, che comodità. I mobili Miglietta sono pensati per chi vive intensamente la propria casa e non rinuncia all'eleganza di uno stile sobrio, ma pieno di personalità. Ricordate, il laminato, 1.850.000 lire. Il rovere, castagno o noce massello, completa di elettrodomestici, a 2.350.000 lire. E guardate anche qui che particolari. Funzionali. Pratici. Firmati dai migliori designer. Sono linee agili. Costruite con tecniche di assemblaggio che ne garantiscono resistenza e durata. Volete cambiare arredamento? Volete risparmiare? Confrontate i vostri preventivi con il nostro. Telefonate. Non chiudete il vostro contratto. Prima interpellateci. Telefonate. Telefonate al numero in sovraimpressione. Un nostro incaricato verrà gratuitamente a casa vostra. E voi signore, guardate che lavorazione, che colori e come sono ben utilizzati gli spazi in queste cucine meravigliose. Ma come fate questi prezzi? Lo ripeto, cara signora, perché dalla fabbrica arriviamo direttamente a casa sua senza intermediari. Ne vuole una conferma? Ci telefoni. E se avessi delle esigenze particolari? Per esempio? Per esempio ho poco spazio e pareti irregolari. E se volessi togliere o aggiungere componenti a un modello che mi piace? Nessun problema, signora. Verrà a casa sua senza impegno un nostro qualificato collaboratore per studiare la soluzione migliore al prezzo più vantaggioso. Signora, vuole un consiglio da Dino il Comodino? Prenda carta e penna e scriva questo numero. E ci chiami subito. Dal mondo delle cucine per ora è tutto. Linea allo studio. Abbiamo una grande sorpresa per gli sposi. Rimanete con noi. Intanto, scegliete il vostro nido d'amore. Non è una sorpresa trovare una camera da letto in noce o lacata per sole un milione e novecentocinquanta mila lire? Le camere da letto miglietta sono tutte camere dalle linee morbide. E sono tutte realizzate con legni pregiati. Linee classiche e intramontabili. Ma scusi, io ho solo bisogno di una cameretta per bambini e voglio spendere poco. Non c'è problema. I mobili miglietta sono belli, funzionali e durevoli. Ma sono anche per tutte le tasche. Per questo se cerca un ambiente bello, pratico e che costi poco, oltre alle soluzioni più eleganti, troverà ambienti meno impegnativi senza rinunciare alla bellezza e alla qualità. Le mostro qualcosa che le piacerà. Guardi, guardi che splendide camerette per ragazzi. A sole 690 mila lire. Abbiamo camerette a ponte con varie soluzioni. Diversi colori, diversi stili. Se invece si è un po' più esigenti, abbiamo anche soluzioni più ricercate, che faranno certamente al caso vostro. E la sorpresa per gli sposi. Ancora un attimo. Mi vorrei riposare su questi splendidi divani, che costano veramente poco e sono così comodi. Guardi se questo non è un vero affare. Salotti a partire da 690 mila lire. Potrà scegliere fra diverse soluzioni, diversi colori, e tessuti pregiati. Voi telefonate per avere la visita gratuita dal nostro arredatore. Intanto io mi riposo e passo la linea allo studio. Sposi, so che siete impazienti, ma ancora un attimo, abbiamo altre novità. Tadino e comodino, bentornati nel mondo del mobilificio miglietta, che vi sorprende ancora con i suoi prezzi. Vediamo. Soggiorni classici o moderni, a partire da 1.900.000 lire. Anche qui troviamo tutta l'esperienza miglietta nell'accostare linee agili e funzionali a materiali selezionati e resistenti. Tavoli costruiti con linee moderne o col buon gusto di un tempo. Tavoli che garantiscono resistenza e durata. Quanto agli stili disponibili, non avete che da scegliere. Ed ora è il momento della sorpresa. Agli sposi che acquistano un arredamento completo verrà donato il fin del loro matrimonio. È veramente un grande regalo. Ma non solo. Chi volesse pagare in contanti avrà un regalo davvero fantastico. Prima di fare i vostri acquisti, telefonateci. Vi sorprenderete per il grande risparmio. Ve lo ricordo, la visita del nostro arredatore è gratuita. Telefonate, telefonate, telefonate! Senta Dino, io ho una figlia che sta per sposarsi e vuole una cucina giovane, dinamica, solida e di ottimo prezzo. E possibilmente posso pagarla a rate? Mi fate correre? Il mobilificio è grande, i settori sono molti e le cucine non finiscono mai! Ecco delle belle cucine. Molto belle. Dal design pratico, studiato appositamente per le giovani coppie. Cucine giovani, nei materiali, nella praticità e nell'accessoristica. Hanno dato la luminosità dei colori? Sono cucine pensate per essere dinamiche e versatili, eleganti e luminose. Affrettatevi a telefonare e se per voi è importante la comodità, avrete dei pagamenti comodissimi. Con dilazioni fino a 42 mesi. Sì, il mobilificio Miglietta è veramente un grande affare. Telefonateci subito! L'appuntamento con le novità del mobilificio Miglietta è tutti i giorni a quest'ora. Arrivederci! Grazie! Grazie!